Finanziamento di progetti di riqualificazione e recupero stradale, modifiche al regolamento del centro di prima accoglienza per i senza fissa dimora, via libera alle delibere per l'acquisizione dei finanziamenti del PON Metro e tanto altro. Nel corso dell'ultima riunione del Consiglio Comunale di Napoli, oltre alle delibere all'ordine del giorno, è stato anche fatto il punto su diversi argomenti rilevanti. L'assessore alla sicurezza De Jesu, dopo aver illustrato la delibera per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza nei quartieri di Ponticelli e di Pianura, progetto finanziato con i fondi del POC Legalità 2014-2020, ha fatto il punto sulla questione polizia municipale, sottolineando come in questo periodo Napoli vive effettivamente un sovraffollamento di veicoli, cosa che compromette la gestione ottimale del personale a disposizione. L'appello è sempre quello a utilizzare sempre di più i mezzi su rotaia che stanno funzionando molto meglio, perché arrivare tutti al centro, in macchina, senza avere possibilità di parcheggiare, questo genera un super lavoro da parte della Polizia Municipale che agisce per priorità. A dieci anni dal crollo di un'ala di Palazzo Guevara di Bovino alla riviera di Chiaia, avvenuto la mattina del 4 marzo 2013 in concomitanza con i lavori della linea 6 della metropolitana, è arrivata la sentenza di primo grado con nove condanne e sette assoluzioni. Sul caso e sui lavori relativi alla linea si è espresso l'assessore alla mobilità e alle infrastrutture di Napoli, Edoardo Cosenza. È una questione tutta giudiziaria, questo è solo il primo grado di giudizio, quindi è una vicenda che io non conosco, non ho avuto nessun ruolo e non sono manco sicuro che si concluderà così. Comunque i lavori sono terminati in piena sicurezza, collaudati, il treno sta circolando tranquillamente, ci sono stato anche io nei scorsi giorni con il sindaco. L'intera linea 6 verrà aperta entro fine giugno 2024, una linea che collega tutta Fuoricrotta, tutta Chiaia, è un municipio, una linea importantissima, tutto prosegue secondo cronoprogramma.